Allora, l'ultimo prodotto notevole che ci rimane da vedere è il quadrato di un trinomio, ok? Cioè, vedete, come esempio, a più b più c elevato al quadrato, non è più un quadrato di un trinomio, ma un quadrato di un trinomio. Ma che cosa è uguale? Beh, proviamo a risolvere in maniera tradizionale. Vediamo, a più b più c al quadrato è stato anche costo, a più b più c, moltiplicato per se stesso due volte, a più b più c più raffa per a più b più c, è una potenza. Allora, se voglio fare questa potenza, che cosa devo fare? Devo, praticamente, moltiplicare a, vedete, devo moltiplicare per b, per a, per b e per c. Lo stesso discorso di casi b, che dovrà essere che dovranno moltiplicare, come facciamo qui, b per a, b per b, b per c. E adesso cambiamo un colore, perché sennò non ci capiamo più un accidente. Eccolo qui, e poi dovranno moltiplicare per c per a, c per b e c per c. Praticamente, ognuno di questi, ognuno di questi, è un colore, moltiplicato per tutti questi. Che cosa dobbiamo? a per a al quadrato, a per b, a b, a per c, a c, con tutti i positivi, quindi il seno ci interessa questo tema. Poi, b per a, a b, b per b, b per b, b quadro, b per c, b c, poi c per a, a c, c per b, b c, c per c, c al quadrato. La ricerca dei, vediamo un po', sono due per quale, normalmente non vedete. Innanzitutto, che cosa dobbiamo, a al quadrato non ha niente di simile, quindi a al quadrato, b al quadrato non ha niente di simile, e quindi rimane più b al quadrato, c al quadrato non c'è niente, non ci sono i simili, quindi c al quadrato. Poi abbiamo, attenzione, a b più, a b, vedete, quindi due b, poi a c più a c, due a c, e poi abbiamo b c più b c, due b c. Che cosa posso dire? Che il quadrato di un trinomio ha che cosa riguarda? Il quadrato del primo termine, il quadrato del secondo termine, il quadrato del terzo termine, doppio prodotto del primo per il secondo, doppio prodotto del primo per il terzo, doppio prodotto del secondo per il terzo. Fondamentalmente con un quadrato del binomio, solo che dobbiamo fare il doppio prodotto e un quadrato di più di più. Se vogliamo un exercito da meno complicato è questo. Ok, vediamo. Cominciamo molto semplicemente. Il quadrato del primo termine, un quarto alla quarta, più il quadrato del secondo termine, più b al quadrato. Il terzo termine, vi ricordo, che è meno c al quadrato, meno c al quadrato al quadrato, diventa più c alla quarta. Ok? Adesso, il doppio prodotto del primo per il secondo. Che cosa? Due per un meno al quadrato per b. Il due in cui vanno via rimane al quadrato b. Naturalmente positivo perché i segni sono positivi. Più a al quadrato b. Il doppio prodotto del primo per il terzo. Un meno per uno, per due prodotti per due, se si semplificano, rimane al quadrato c al quadrato. Ma attenzione, un al quadrato c al quadrato, segno negativo. Quindi meno al quadrato c al quadrato. Rimane da trovare il doppio prodotto del secondo per il terzo. Due volte per b, due per, più b per, meno c al quadrato. Quindi meno due, b, c al quadrato. Vedete? Quadrato del primo, quadrato del secondo, quadrato del terzo. Doppio prodotto del primo per il secondo. Doppio prodotto del primo per il terzo. Doppio prodotto del secondo per il terzo. Tutto qui.